Amici di PolymaVod, StayPoly, StayVod, questa è la nuova catchphrase che abbiamo inventato per voi che ci seguite da casa Vi si vuole bene amici che ci seguite anche senza seguirci, come state? Benvenuti in quello che per me penso sia il penultimo episodio di Dark Souls E questa cosa mi fa piangere, mi fa piangere molto ma sapete che cosa fa piangere di più? No, non è vero, non è un spam To The Moon, perché dico To The Moon all'inizio di un video di Dark Souls? Direi perché, per voi amici che non avete un'anima, o quest'anima forse è oscura Sapete che è stato caricato sul canale PolymaVod, una parte o tutto, la mia piccola run su To The Moon Vi consiglio di guardarla perché è stato allucinante, un gioco che in poche ore disintegra la tua mente e il tuo cuore Su una quantità di livelli che mai mi sarei aspettato Lo dico anche perché nelle prossime settimane qui su Twitch gestiremo anche i seguiti di To The Moon Quindi se volete potete appunto venire a vederla in live, sapete la scheda la trovate su Instagram Forse Willy scriverà qualcosa nella descrizione di questo video Però quindi ci tenevo a dirvelo anche durante Dark Souls perché appunto voglio che ve lo possiate recuperare Punto numero uno Punto numero due invece è, torniamo a noi, torniamo al mondo di Miyazaki Si chiama lui, non mi ricordo mai se Miyazaki o Tanimura, vabbè è quello lì Questo probabilmente è il penultimo episodio di Dark Souls In realtà è il penultimo episodio di gameplay di Dark Souls perché come sapete c'è la live dove gioco assieme a C'è la live dove mentre io gioco Enrico, Heavy Metal, il mio custode, il mio angelo custode di questo episodio Nonché boia di parte della chat insieme a Cop Appunto mi guiderà in mezzo a quella che è la lore di Dark Souls e perché no di tutta la teleologia Ma probabilmente ci entreremo su Dark Souls 3 E poi ci sarà una seconda live, non so quando più avanti vi terrò aggiornati sul mio Instagram Invece con niente po' di meno di colui che diceva Dio, è quello lì insomma che penso conosciate tutti come Michele Del deserto per parlare in tutta la completezza di Dark Souls Insomma di tutto quello bello, l'ho già sentito Ha detto che insomma un'oretta si dovrebbe riuscire a tirare fuori in un'oretta Probabilmente facciamo solo tempo a presentarci Però ci sarà anche questa cosa, il quando non ve lo so dire perché non lo so Terza cosa che devo dire perché magari non avete visto gli episodi fino alla fine O magari ve lo siete persi Poli ma cosa farei dopo Dark Souls 3? A parte probabilmente tentare il suicidio dato che finendo i Dark Souls non c'è più niente di figo O forse qualcosa di figo c'è Perché ho già annunciato che a seguito di DS3 giocherò Bloodborne 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 Ho deciso di giocarmi il proiettile Bloodborne adesso Con adesso intendo in realtà a fine aprile Perché il mese di fine aprile e maggio saranno dei mesi molto intensi Col fatto che poi io mi sposo a fine giugno eccetera Voglio diciamo chiudere dei capitoli perché poi a settembre mi aspetta Elder Ring Ciao Elder Ring va avanti fino a dicembre quindi ci vediamo alla fine di tutto Quando avrò compiuto 31 anni e la mia vita sarà completamente diversa Elder Ring credo che durerà un pochettino immagino fatto in streaming Quindi ho deciso di anticipare Bloodborne Tranquilli che Sekiro, Demon's Souls, tutto quello che c'è dietro verrà fatto Semplicemente intanto questo è l'ordine delle cose Torniamo però a noi, prendiamo anche il pad alla mano nella speranza che il pad funzioni Perché prima non funzionava Se non funziona è un problema Ok funziona, non funzionava solo su Startup B Perché amici del patriottismo italiano O francesi insomma Dove per forza essere italiano il patriottismo Dopo aver finito il gioco la settimana scorsa Siamo giunti al secondo DLC Quindi sì, se ve lo siete persi ho affrontato il tizio che palesemente è Gwyn Ho affrontato il tizio che palesemente ha tutti i personaggi che hanno vincolato il fuoco Insomma ho affrontato tutto quello che andava affrontato Andando a chiudere il gioco vedendo anche i finali di Dark Souls Il che non significa che sia veramente finito Perché in realtà ci manca ancora il cumulo di merda Il cumulo di rifiuti l'ho detto ancora un paio di settimane fa Una settimana fa Questo posto sembra molto molto interessante Perché la signorina qui di fianco Signorina è molto gentile Sostiene che qui è dove tutto ha fine In un certo modo Cioè dove vi è la fine di tutto Io ho più o meno ipotizzato che questa è appunto la Tipo la cosiddetta È come se ci fosse il confine per la fine del mondo Cioè è come se tutta la fine del mondo arrivasse qui E poi lì c'è la fine Ok ed è quello che appunto mi aspetto ci sia Vediamo infatti che tutti i mondi sono collassati E sono appunto di rifiuti rispetto a quella che è la fine di tutto Cioè tutto e niente rispetto ciò che è la fine Questa almeno è la mia lettura Ero già sceso in questa zona Ma poi mi avete detto che era il caso di andarci dopo E quindi eccoci qui Il quadernetto penso mi servirà perché ci saranno un po' di persone da scoprire O almeno me lo auguro E basta Partiamo da lui che peraltro io ho già visto Che mi indica di andare giù Un po' come quando faccio io con Lola che la porto giù Io lui l'ho già visto, l'ho già detto Ma non so chi cazzo sia L'ho già visto però nel gioco O se non l'ho visto Allora me lo sono immaginato Ho palesemente il suo Equipaggiamento Perché è questo il suo equipaggiamento È questo qua il suo equipaggiamento Secondo me Cioè il cavaliere schiavo Capuccio di stoffo donato ai cavaliere schiavi Il colore rosso è il simone inconfondibile nel loro compito In passato i non morti ricoprivano nuovi i cavaliere schiavi Came da macello per le battaglie più tremende Però appunto Non so Chi sia Arrivedisco l'ho già visto Ma boh Detto ciò Qui non c'è un cazzo Quindi iniziamo a sprofondare nel puzzo Via Nel puzzo Allora Si andava Di qua Ma sono braciato? Sì sono tutto imbracciato Ah perché ho ucciso Big Bro Ho ucciso il Big Bro Big Bro è Danny Lazarin Allora Qua ci sono sti tizi che mi fanno un po' sgroda Manchè ma che stecca ne tiro bro? Questi qua evocano sti esseri immondi Ah ma no Sono evocazioni o sono nemici? Sono evocazioni perché non mi danno anime vedi? Vedi il fatto che questi non siano dei veri nemici ma sono tipo fatti di oscurità È molto figa sta roba Ah là ce n'è un altro ecco perché allora ce n'erano due Ok Quello che mi chiedo io è Dove conviene andare prima? Perché possiamo andare Qui sotto Perché questo qui crolla e ci fa cadere Dentro Tipo la cattedrale di Anor Londo Che cazzo ne so Oppure si può salire E ci porta Tu sei forte mi sa no? Porca troio Questo adesso ti prende e ti spacca il culo? Mannaggia la madosca se sei forte tu Eh già Però bel nemico questo eh Concetto al mente Un po' lento Però No hit Bro ma quanto sono diventato bravo su Dark Souls Dite la verità Un anno fa non mi facevate così Come passa il tempo ragazzi Come passa il tempo Come passa il tempo Una volta qua Si sarebbe morti qua eh Non so se esiste a livello italianico Sarei morto qua una volta eh Non sono più un vergine di questo gioco Come passa il tempo Come passa il tempo Come passa il tempo Con le mie palle di fuoco I miei sette trai per sconfiggere La sua ora Pugnale d'acqua marina Pugnale d'acqua marina Un pugnale decorato con cristallo d'acqua marina Sulla superficie è intagliata Un'antica preghiera A scongiorare la mala sorte Potrebbe trattarsi di un dono D'addio per Qualcuno che aveva un lungo viaggio davanti Per qualcuno che aveva un lungo viaggio davanti Nel puzzo Forse era un viaggio puzzolente Vabbè mi auguro che non ci siano parapetti invisibili qui Cioè c'è stato un solo parapetto invisibile comunque C'è tutto questo per darmi questa roba Però non ci vedo nient'altro Pam Mamma Non ci vedo null'altro Azza ma è tornato alla vita Ah no io devo andare di qua mi sa Beh è un drago questo mi sa eh Ma scusi io sono salito qui Ma posso scendere qui Che schifo Signora I limoni Qui c'è un drago C'è ancora del sangue in corpo però questo signor drago Vi è del sangue nel corpo capo eh Però penso che sia semplicemente la L'animaction L'animatronics E qui sotto Un puzzo di niente Ah ma si poteva andare da qui Madonna Santa Ma io non l'ho neanche visto quando sono sceso Quindi non c'è nient'altro Così me lo dici Così mi asserisci che non vi è null'altro Vabbè in caso si fa un check dopo Ad occhio mi sembra di aver esplorato tutto qua però eh Ok Ma qua c'è il problema che ci sono mille personaggi Che mi Che evocano quei croppoli Lì Sono tanti Oddio ma qualcuno mi ha mandato un proiettile Ma cazzo c'è la puttana Ma sei matto Ma che è quella roba lì Oh Ma state tutti inviberiti qua Ma siete tutti stupidi Ma dove sta il tizio qualunque Bro questi hanno a che fare con l'origine dell'uomo Perché ti Ti lanciano addosso a umanità Dov'è? Dov'è? Ce n'è uno che si è tutto buggato Mi sa Ma se tu ti avvicini lui si attiva Sono tipo delle mie Porca Oh 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 Cagato Oh Oh Bene Abbiamo finito Grazie mille Enrico per i 66 mesi Bentornato Skyland e Bina Grazie per il ride Capitani Benvenuti ragazzi Grazie mille Mori Ciao amici miei Un bacione grosso Finferli Grazie 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 Pantan Hola Ma guarda cosa ti sgama il Sior Poli Guarda qua Signori Spadone dell'Eclettico Sabaku Mi sa che ho Falcetto nebuloso Mi sa che ho evocato un nemico Ma non so dov'è Ah eccolo lì Falcetto Va che bello Pugnale Questo falcetto Del corto manico E' una delle armi predilette Dei terzi abitanti Delle profondità abissali Una nera umidità lo avvolge E l'oscurità E' la fonte del suo potere Quindi stiamo andando Veramente dentro L'abisso No non ci siamo già stati Dentro l'abisso Ma che cazzo è Quella roba lì Buttati Ma è un angelo Come cazzo lo ammazzo io Perché non sono un piromante Ma sto tizio mi dà una mano O è cattivo E poi perché mi indica dove andare sto tizio Puttana proia E' un gatling Santi numi Ma che casino fa No mi sta trascinando nel puzzo Sicuramente mi indica dove devo andare Penso sia amico Forse uno che mi vuole portare In un posto per incularmi Vuole farmi vedere qualcosa Sì meglio come uccido One winged angel qua Eh Oh là Oh 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 Questi sono Oh co2 Questi sono incazzati come mostri Ma sei stupido Ma che danno è Anche io non scherzo però No Quattromila anime Non meno così tante in realtà Mannaggia Guarda 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 Merda Puttana se stanno inviveriti questi Io buono se sono forti questi Oh Cosa sono? Sono cavalieri dell'abisso Questi? L'anima del cavaliere scoraggiato Nel dubbio spacca tutto Che è sto rumore Ma bisogna ancora andare dove c'è l'angelo Eh Questa è la fontana di 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 Ritil Giustamente Qualsiasi cosa è qui Ma assurda sta roba Cioè noi troveremo un sacco O forse non è la stessa fontana Perché non c'era quel cavaliere lì Però magari quel cavaliere lì è un'extra Eh Però è una fontana che mi sembra di aver già visto Però c'è da dire che una fontana vale l'altra Tutti questi sono senza testa Mannaggia Beh io vado di qua eh Poi andiamo lì Bella Ok A posto Via Ma quanti ne spavano? Quanti sono? Ma sono infiniti mi sa eh Farming point broder Farming point broder Farming point broder Ma dite che è per questo che dura tanto il DLC Perché le persone non si rendono a racconto Che è infinito Bordone nebuloso Non capisco come cosa bisogna fare Per evitare che Continino a nascere Questa è merda Ma quanti sono? Ma infiniti Lì c'è una scala E c'è una scala Però va calciata Va calciata quella scala da sopra Ancora Poli 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 Ma che schifo Buttati Questo tizio qua mi sa che mi sta attirando in una trappolone Mi sa che sto tizio qua Mi vuole portare in una trappolazza Qua sotto noi sappiamo per certo Che vi è un demone Della quale ne parlava Le Lorian Non Lorik Lorik non esiste Lorian Aha Scemo Aha Scemo Aha Scemo Porco Oddio ma è pieno di dinastie Che cazzo Oh 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 Oddio Piano 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 Però io spero che i boss siano meno cattivi di questi Perché sennò c'è un problema qua sotto Con un problema intendo che non finirò mai il DLC Oh 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 calma 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 dovrei aver capito come si fa basta schivare calma 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 allora questo sarà antifuoco se è acciaio no? assolutamente ah no danni fisici fisici ok e c'era un'arma tipo iniziava con B bordone nebuloso lungo bordone impugnato dai tetri abitanti delle profondità abissali groda una viscosa oscurità ed è perfetto per lanciare stranieri oscure questi sono gli abitanti abissali ah ma è caduto tutto qua oh poli 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 hai capito dio bono che cadendo ha fatto oh poli 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 quindi era destino che io morissi per sgamare questa cosa ho capito ho capito lui è buono vero? lui è buono vero? speriamo questi non cagano il cazzo quello è buono vero? innanzitutto ci sono armatori di cavaliere di lottrik già prese quindi qua sotto ci sono anche cavaliere di lottrik non capisco che gente c'è qua sotto ma quello che c'è qua non c'è più adesso ma non posso parlare con loro io pensavo di poter parlare con questi no cosa faccio? no cosa faccio? ah ma li uccide anche lui lui è tipo un macellaio ma li uccide gente a cazzo? ma è matto questo eh questo è tutto matto ragazzi questo è tutto matto cazzando come le vipere eh lord grazie per la gift amore ciao lord grazie lord d'anne troppo poca tempo ragazzi ne avevo di più su darksouth 2 il problema è la tempra speriamo che su bloodborne io abbia più tempra farò una tempra build su bloodborne eh so neanche se c'è la tempra in realtà su bloodborne però vabbè facciamo così provo a lasciare le anime lì e vedere se magari quelle ha visto lui erge la barriera come dire noi qui non siamo puttane non luttare in combat e muore poli muore poli muore poli ma ecco che è morto elmo e il cavaliere già preso ok vediamo cosa c'è qui sopra e poi vado a prendermi le mie 60.000 puzzole oh poli 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 stiamo calmi eh ah ma lui non è è un tizio si è un uomo buono chi sei qualcuno che ha ancora la testa a posto mi piace di incontrare un anima fine su questa ruba è desolata chiamami Lapp e fatelo bastare visto che il mio vero nome mi sfugge ah Lapp sono sicuro che saremo una squadra niente male io e te vedrai 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 questo è sincero c'è una cosa che non posso nasconderti io sono vacuo certo faccio come se niente fosse ma non ricordo nulla del mio passato ma non ho capito ma non ho capito chi ero o chi ero o chi ero nelle mie aspettazioni persino il mio stesso nome mi sfugge è per questo che la mia ricerca mi ha portato qui così vicino al monumento della purificazione dimora dei pigmei che scoprirono l'animo scuro alla nascita del fuoco posso dire che quelle petruzio non hanno più un grande effetto sulla mia memoria oh io non ho schippato un singolo dialogo ma una linea di testo io non sono riuscito a leggerla ha detto città di e ho letto a era città di e mi sembra che l'iniziale fosse a ma non ho mai premuto a città d'anelli questo è quanto non prendertela commessa dovessi dimenticare chi sei su via che altro c'è da dire sono vacuo per l'amor del cielo wow ma cazzo c'è il su è un vacuo consapevole lui c'è non è come tutti gli altri che diventano matti lui lui c'è con la testa sebbene si dimentichi non si ricordi delle cose lui con la testa c'è e e lui è stato portato fino a qua dove i pigmei hanno fatto nascere l'umanità non mi ricordo cosa ha detto ha detto troppe robe di obono ma ne sono persi un botto la città d'anelli immagino che ci sia una città d'anelli c'è la sua ricerca da essere vuoto è come se lui da vuoto fosse stato attirato qui capito come se lui da vuoto fosse riuscito ad arrivare fino a qua dice le mie ricerche mi abbiano portato fino a qua io buono però questo potevo schivarlo eh matti molto interessante qua c'è qualcosa che ha a che fare con l'umanità all'abisso eccetera eh e lo si vede attacco in caduta e lo si vede dal fatto che loro ti attaccano con l'umanità ok loro ti attaccano con tipo l'umanità loro ti attaccano con l'umanità e ci sono i cavalieri anche c'è altro di qua no aspetta 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 eh aspetta 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 adesso arriva sotto adesso arriva sotto adesso arriva sotto adesso allora non credo che tu debba fare questa cosa sinceramente perchè il danno che mi fa da caduta è quasi una sua hit ok solo 500 anime oh oh solo 500 anime e tu non parli con sti tizi questi sono tutti morti questi sono tutti morti giusti oppure sono banalmente pezzi no? di eh e qua mi prendo danno io? no pezzi di varie città posso del ritorno? eccolo lì sempre lui c'è sempre lui c'è buttati non morirai ok mh ah là sotto c'è qualcosa credo sia un falò ma dov'è questa città ad anelli? qua c'è un albero città ad anelli ok si sa che è grazie a quella runa lì ma quello è un mulino mh ragazzi ma una volta per dire una cazzata no non so se è una cazzata sinceramente però c'è sa da cazzata ma innanzitutto mi divida lo stavo per dire lo stavo per dire è il Dark Souls 2 ma che cazzo dici? c'è ho detto no vabbè com'è possibile che ti citino quella merda là questa è la pala a cui dai fuoco su Dark Souls 2 c'è tu su DS2 dai fuoco a tutto il meccanismo e giustamente essendo giustamente la fine di tutti i mondi anche degli altri Dark Souls no? e sono le rovine del picco terrestre cazzo c'è io ho visto quella pala lì e sto colore verdognolo ho detto boh però mi sembra assurdo c'è citano DS2 infatti ho detto non lo dico perché dica una puttanata poi mi pigliano per il culo per due settimane invece porca troia forse mi dovremmo buttare un po' di più e che devo fare? sì 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 secco secco questa è la famigerata ascensore che porta in un lago di lava ho sbaglio ci sarà anche un ascensore dritta che porta nel niente in fondo là? ok vediamo cosa c'è qua in Girox vabbè ma mi aspetto citazioni di ogni genere qua eh mi aspetto citazioni di ogni... ah va che roba è tutto sì sì è tutto il mulino gigante bro è tutto il mulino gigantesco minchia chissà quanti riesco a coglierne di ste citazioni qua una probabilmente questa e basta ma... ma che figo tu di solito qui sei dentro no? tu di solito qua sei dentro la torre e... che figata che figata se qua cado muoio vero? magari pure questo albero l'ho già visto eh eppure sto vedendo che non ci sia niente da raccogliere però qua se cadi non risali più madonna so tutto oddio mi sembra che ho fatto una cacata oddio bro? oddio! eh no 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 mi butto bro il gatling di merda ma come li ammazzo io quelli? non sono più il forlon di una volta ok marvolotto marvo tottolo marvo grazie per i sette mesi bentornato nel canale amore comunque si può andare lì sopra eh non so come ma si può andare qua sopra e anche lì visto che c'è un oggetto ognolo oh poli 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 e loro spawnano così a cazzo di cane queste merde ma non c'è modo di combatterli? ci sono anche fighi ma senti che versi che fanno no aaah una volta tanto che dovevo esser rengede di obono ah ma t'hanno messo st'e cose apposta Oh cazzo, ma loro odiano tutti Hai capito Cioè loro colpiscono qualsiasi nemico Sono tipo dei purificatori di questa zona Veste di piromante del deserto Michele? Ma non ho capito che cos'era Era questo Del piromante del deserto Veste di piromante del deserto Che vagavano per gli atri Per gli atri e i corridoi del picco terrestre Si dice che la sottile stoffa Lo start-up Le piromante del deserto erano quasi tutte donne Ed erano temute per i loro mortali Ventagli di fiamme Ah sì, certo Di Dark Souls 2 Non devo mai più dire certo Come l'ho appena detto Perché mi vengono i ricordi di quando ieri Dicevo certo su ogni singola cosa Di To The Moon Amici di Polyma VOD Poi finito questo VOD So che non avete un cazzo da fare Perché tanto nell'episodio dell'anno oscuro 3 Non è uscito Perché non so quando uscirà Sinceramente Andatevi a recuperare il VOD di To The Moon Direi Polyma perché questo Flame? No, stamattina ho visto un post su Su Commodore Zone Che flammavano Michele Quando Dio Bono Mi sembra che Michele Questi anni di roba ne abbia fatta Però Nel dubbio Flammano Nel dubbio flamma Un po' la tecnica di League of Legends È questa eh Nel dubbio Flamma Secondo voi ragazzi Esce prima La finale del Poli Quiz Show Oh Poli 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 Hollow Knight 2 Silksong L'Anima Oscura 3 Oh la mannaggia di Kiki Ok Non posso bestemmiare Quindi dirò Questa cosa qui Perché non puoi bestemmiare? Bisogna rimanere bravi Sì ma mi devi Mi stai facendo Rasciare Maiale Che merda di nemico Dio santo Ma poi senti quanto si incazza Vabbè Ma come ho fatto a missarlo? No È tutta la merda che c'è No zì no 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 Oddio No ma zì Ma che schifo Ma dai Cioè se lì stai sotto Ti maledicono Ok Se stai davanti di me No no Bro ma dai Ma come fai a mettermeli qua? Io voglio esplorare Ma che schifo Sentili Comunque è uscito tutto il puzzo Dal picco terrestre E Tutto il puzzo è qui Cioè capisci Io vorrei andare veramente Ma non sono se ti stanno sopra Ti fanno queste nuvole Di vele Di maledizione Tipo No vabbè Movele No raga Ma che zona è? Ma santo padre Pio Eccoci Noo bro no Mi serve un muschio selvaggio Te lo devi aspettare Lo devi aspettare Ok Ora 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 Calma Calma No vabbè bro Ma ne fa sei Ma chi è che fa una combo da sei Ui Coglione Donk 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 Misato Donk Oh oh Donk Donk Ok Ho già capito io cosa bisogna eseguire qui eh Qui bisogna eseguire l'equipaggiamento purpureo Harry grazie per il terzo mese bentornato nel canale Harry thank you so much Ragazzi Silenzio Che lui non mi sta vedendo silenzio che non mi sta vedendo silenzio Sì Oh, il co... Oh, poli, poli, poli Che uomo di merda, ma santa papa Cioè, se non ti vede, ti lancia la puzza Se ti vede, ti lancia la puzza Madonna, che nemico torrendo Ma più che altro è ingiusto, perché io lo vorrei sfidare uomo a uomo Intanto mi mangio una crocchetta di patate Allora Serve un piano Serve un piano Allora Il piano è il seguente Si va lì A destra Si recupera l'oggetto tra i cinque omini neri Si corre attraverso il puzzo Si va sotto lì Si disingaggia lui Ci si toglie il coso Via! Ok, ma lui non mi ha visto Perizona Perizona Ok, non mi ha visto l'angelo Non mi ha visto Mi ha visto l'angelo Mi ha visto l'angelo Abdicare piano Abdicare papa Ok, ok, ok No, zi Non è vero Che mi becchi Va bene, va bene, va bene Riprendiamo il piano come era prima No Santa polenta Come fai? Fai male comunque Questo era un bombardamento a tappeto Mi sa Aspetta Ma io ne posso beffeggiare Io ne posso trarre Ehi Che è quella cosa lì Ma quante barre c'ho addosso Angelo Colpisci Un maceteman Ok, Angelo Si è rotto le palle Oh mio Dio Che merda Ce n'è uno ovunque, zi Ah, guarda Muro invisibile Allora Una grande idea Ascoltate la mia idea Che idea Ma quale è l'idea Non vedi che Che idea Ma quale è l'idea Pronti? L'idea è semplice E infallibile Puzzo Vieni con me Tu Che idea Ma quale è l'idea Che idea Che idea Ma quale è l'idea Ma quale è l'idea Mi scoppio un muschio In cambio di Ma vai a fanculo Io speravo un oggetto Che mi mistificasse La lore del puzzo Smettila 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 Bella Che idea Quale è l'idea Quale è l'idea Che uomo di merda Ma guarda che si sposta Per prendere meglio la mira Io prendo del pollo E me lo mangio Oddio Scherzavo Scherzavo Stavo scherzando Stavo obiettivamente Pusendo uno scherzo Che idea Ma quale è l'idea Vita Salva Oddio Ma c'è Puzzo Man Hai trovato il tesoro Che tesoro Ah la sua spada Come Il più grande Guerrero di sempre È davvero un cumulo di rifiuti Alla fine del mondo I resti devastati Di ogni epoca E ogni terra Viene quasi da pensare Che le leggende Fossero vere Che sotto questa Giaccia Che sotto questo Giaccia la cisa Ah è sotto di noi Ma io penso Che lui abbia Semplicemente trovato Visto che questo È il cumulo di rifiuti E quindi c'è Qualsiasi cosa Lui abbia trovato I resti di Anche di Siege Maia Cioè almeno spero Che non sia morto Insomma Le tue mani vola Sto cercando di capire come andare lì sopra Ma con uno che mi bombarda Non riesco a pensare Contatto Contatto fiato in gola Il buio si innamora La notte vola Non ti sarò vicino Per sempre Vola Ma piangico Mio dio Basta bro Basta Sembra il 1940 Bohia Adesso vieni qua te Adesso mi affronti Angelo della morte Angel of death C'era ragione quindi Veramente esiste un boss Che si chiama Angel of death Le tue mani Sorca Tu mamma È una sorca Oggio ma dov'è Pong Oggio ma dov'è Là ci sono due oggetti Che io devo momentaneamente abdicare In quanto forlone Pong Ma me li riprenderò a capo Ma Stai veramente Speriamo che ti scoppia Un'epilessia Fotosensibile Ma perché non ho la spada Cristo Ma io penso Io penso E vi chiedo Ma c'era veramente bisogno Di questo nemico C'era veramente bisogno Di non farmi godere Ciò per cui ho pagato Comunque si vede Che è una zona di Dark Souls 2 È proprio una merda Flame gratuito La frase più importante Di tre giochi Però Flame gratuito Letteralmente l'unico Dialogo importante Di tutti i giochi È All I will remain All I Però probabilmente Conviene che lo skippi Dark Souls 2 Poli Ok Io ho visto un video Dove purtroppo Ci sono quattro nemici A schermo E una della siga Di tanto Ho un po' Quattro nemici È il cammino moly È il cammino moly Guarda Mi amici Letteralmente Ci sono 27 Ehi Ma quelle sono delle tette Oh no La piromante Del Samaku No E non voglio ucciderti Anche perché si fregna Guarda Scusami Ma il tuo danno È Ineffabile Sai Una volta ero come te Una donna No Un piromante Poi ho deciso Di diventare Un vero Dark Souls Ah non hai fiaschette Oh merda Però c'è ancora Una spada di fuoco Tipo Magari è un ventaglio Di fiamme Che idea Ma quale idea Dalla con l'arma lì Si può troppare Troppare Ma che zinne Che c'aveva questa Oh ma che Si è stata Eccola qua Ecco ho trovato Trovato il modo Per fare quella cosa Oh poli 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 Incantesimo di Zoe Discendente delle piromanti Del deserto Il ventaglio di fiamme Spezza l'aria Zoe possedeva L'innegabile bellezza Delle piromanti Del deserto Ma non il potere Di avvelenare Chi la guardasse Decise quindi Di diventare Umile regina Dei deboli E dimenticati Decise Cioè In modo umile Decide di diventare Una regina Adesso andiamo di là Voglio vedere se di qua C'è qualcos'altro Prima La umile regina Ma perché noi Stiamo salendo Se la città Ad anelli È sotto di noi C'è un modo Di pugnalare Alle spalle Questi angeli Del cazzo Signori Ma io ora Che ci penso Ho una Un'arma A mia disposizione Che non ho ancora Utilizzato Ehi Stupido Guarda qua Tu non sai Con chi cazzo Stai parlando Capo Tu non sai Con chi cazzo Stai parlando Capo L'ho sempre detto In un Souls Io sarò Un arciere Forse bisogna Mirare la testa Presto 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 Tardi Giungerà il momento Di forlò Un arciere Presto Tardi Io affronterò Un gioco Con un arco Presto Tardi Voi verrete Sconfitti Mi sa che Ha proprio Tanta vita Perché Nove di vita Non si vede Nemmeno Che glielo Ho tolti Mi sa che Il derring Ce lo facciamo Tutto in range Ragazzi Tutto ad archi E frecce Sono Sekiro O Bloodborne Oh Bloodborne Non potrei farlo Tutto a proiettili So che ci sono le pistole Su Bloodborne Vaffanculo Ci sono le pistole Su Bloodborne Non potrei farlo Tutto a proiettili Minigun build La chiamiamo Vabbè Tani murata Qua eh Bro Tani murata Totale Bro Tani murata Totale Cioè 100% Tani mura Qua eh No non è Come si chiamava Tani mura Quelli di Oh mio Dio Stavo sistemando Il jack Delle Delle cuffie Io Stavo sistemando Il jack Delle cuffie Santro Padre Dio Manco Quello Posso fare Che idea Ma quale idea Lo vedi Che non sei Una portata Che idea Ma quale idea Bella Ti ricordi di me Ti spacco il culo Che idea Ma quale idea May you find peace Ma ha detto questo Va bene Signori Signori Le Due Due Mani Gola Con tanto Fiacco In gola Ma cosa mi dice Lei se le parlo Ma uccidimi E tornerò come una volta Diventerò un puzzo Ok May guides May guides Fedet Grazie per i sette mesi More Ciao Fede Grazie per il supporto Grazie anche ad Alessio Per i sette mesi Oggi è Seven Subs Day Seven nation army Io ragazzi Mi auguro fortemente Che poi Quando finiremo Questo DLC I bastardi angeli Muoiano E io posso esplorare Con calma Perché mi sta Altamente sui coglioni Altamente sui coglioni Di non poter esplorare Con calma Perché quei bastardi Rompono la minchia Se no Inserisco un cheating Per il quale Ottengo 108 milioni Di anime Faccio il livello 40.000 E praticamente Non mi colpiscono più Buttati Non morirai Tu dove andasta Ma io dico no Ma se sto tizio Fosse cattivo Gli bastere Mi sa che c'è Tangia attivo Eeeh Willy Blocchi Tangia Un attimo Mi sa che c'è Tangia attivo Oh poli 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 Capo Scusami per il disturbo Ma sono qui a ricordarti A parte un like E un commento Che fanno veramente Tanto piacere A iscriverti al canale Una quantità assurda Di persone Guardano questo canale E non ne sono iscritte Quindi dato che Suppongo non vogliate Perdervi nulla Iscrivetevi Che fa veramente Tanto piacere E non vi perdete Alcun tipo di video Buona visione Non morerai Mi sa che è un inquu... Ah sono due Certo Tutta di non morerai Non mi sembra però Oh che dire Oh che dire Oh che dire Oh che dire Ma volevo entrare qua dentro Ma Oddio ma c'è la manestra C'è un microfono Equivaggiato Allora Agonizzante degli abissi Ma perché non ce l'ho due mani Ma quello là è un mago E questo qui è un guerriero Sono molto fighi loro due Sono molto fighi loro due Ma si sono scambiati di posto Ma si sono scambiati di posto Sono un attimo Sono un attimo di incastrato Con la telecamera Temo Sì ma non ne devo targetta due diversi Deve morire uno alla volta Che idea Ma quale idea I am great man for long E' un attimo E' un attimo Io attacco te! E uno fuori del coglione! Oh no, il portello si incazza come un posto! Che idea! Ok! 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 L'esigen, Mata! Ma è morto qualcuno, mi sono arrivati a 180 anime. Ma è morto qualcuno appena sono arrivato qui. Dunque questo è il tizio di cui parlava, è il tizio che maledice l'umanità. Sto ragionando. Un coccolino per poli piccolino. Sta zitto. Adesso muore. Muore tutto quello che c'è lì sotto muore, tranne il sottoscritto. Come inside, meet your friends at the door. Ah, beh, Matt. È buono di vedere te e di buona salute. Cosa mi ha bisogno? Ah, merda. Siamo al capo delle Estus, bro. Siamo al capo delle Estus. Come inside, meet your friends at the door. Signori. Signori. Molti si rimbocca... Ma io tutte le volte che vengo qua muore qualcuno. Cioè, ogni volta che mi tippo qui, muore un tizio. Cioè, io pieno 180 anime a teleport. Ma che cazzo è la tassa? Grazie, Lord Sidak. Oh, poli, poli, poli! Grazie a Kuma per il terzo mese. John Nash, grazie per i cento mesi. Mila. Cento biz. No, cento mesi. Un giorno potrà durare grazie per i cento mesi. Sapete quando quel giorno arriverà? Quando finirò a questo gioco no, hitrun. Ok. Dura poco, comunque, questa postfight, eh. Mettomeno fare Garrosh in Mitica su luogo. Guarda che belli fratellini. Figli di... La stessa madre puttana. Poveri, tipo sott'acqua. Ma dai! E invece no. Che gioco è fatto male? Io credo. Ma no, fai quella cosa sulla testa! È questa! È questa cosa qua che fa un sacco di danno, sì. Ascoltami forlone, the greatest forlone mediev. Fai quella cosa sulla testa. Agia, agiela. Brother. Invite you back. Un po' c'è già un po'. Quindi quando un demone è agonizzante e uno degli avisti si incontrano, diventano un principe demone? Merda se sono bravo in questo videogioco. Ehi! Testa! Ma papaculo, non puoi neanche fargli un intenziale. 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 Testar! Testar! Percoccia la malosca! Quali sei morto, tu vero? Testar! Testar! Testa! Vagafai! Testa! E' da Testa! Sei morto! Oh! Poli! 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 Ho messo... Ho chiuso la camicia. Piccola schivata nel dubbio perché... Nel dubbio... Che fai? Non lo fai un salto indietro? E pensare... Che sei mesi fa... Non volevo nemmeno... Stare vicino ai nemici. Perché sei mesi fa facevo i gargoyle a palle di fuoco perché volevo stargli lontano. Testa! Una delle anime corrotte dei poteri eccezionali. I demoni nati dal caos condividono quasi tutto tra loro. Anche l'orgoglio del loro principe e la sua fiamma quasi estinta. Così quell'ultimo demoni in esistenza possa nuovamente alimentarla. L'orgoglio del loro principe e la sua fiamma quasi estinta così che l'ultimo demone in esistenza possa nuovamente alimentarla. Un'enorme arena comunque. Un'enorme arena comunque. Possa nuovamente alimentarla. Ma e se non c'è nessun demone? Mi sa che è finita quindi. Mi sa che non vi sono demoni. Ma questo era quello di cui parlava anche Lorian. O Leoric. Non mi ricordo mai come si chiama. Bandiera dell'emissario. Pilo Stenardo utilizzato ai tempi rimoti degli emissari del possente signor Gwyn. Leva al cielo questo vessillo presso il grande dirupo per farti portare alla sua destinazione. Il potente signore fece dono ai pigmei, possessori dell'anima oscura. Della città ad anelli, un luogo al confine del mondo e della propria adorata figlia. Le lasciò una promessa. Che sarebbe tornato a salvarla. A parte che mi sa che non l'ha promessa. Non l'ha fatta sta promessa visto che Gwyn è morto un miliardo di volte. Uno. Ma poi basta raga. Ma com'è possibile che ogni volta che c'è Gwyn di mezzo salta fuori una figlia nuova? Santo Padre Pio. Ogni volta c'è un nuovo... C'è una nuova prole. Ti sono figlio ovunque. Non fa nemmeno più effetto. Ogni cazzo di souls si aggiunge un figlio. Ma mia zaga ha fatto delle cose tanto fighe. Ma inventati una parentela migliore. Cristo madonna. La prima moglie e la seconda moglie. Ma il possente signore fece... Quindi ai pigmei. Che sono quelli... Io immagino che sia il nano dimenticato. Come si chiama? Non mi ricordo mai il nome. Il nano... Come cazzo si chiama? Quello là. Sarà il nano dimenticato. Quello lì non mi ricordo come cazzo si chiama. Non si chiama nano dimenticato. Si chiama gnomo. Vabbè quello lì... Che da lui il quale è nata tutta la cosa. Perché mi ricordo che se ne parlò alla fine di Dark Souls 1. Che da lui nacque tutta l'umanità. Eccetera eccetera. Lui a loro... A loro... Ehm... A loro... Ha donato la città ad anelli. Oddio. Risponde al telefono. Ermione e Gloria eh. Scusate. Ah scusa Gloria. Bello che Gloria mi deve scrivere in chat quando può essere... È là. Sì. Scusate. Ehm... Ok. Scusate. È più comodo scrivere in chat di Twitch che mandarmi un messaggio a me. Cioè è più facile che io vedere la chat di Twitch in una blind run. Che... Che lei che un messaggio su Whatsapp. Incredibile. Ehm... Ok. Comunque. Ok. Il signore si... Fece donna ai pigmen possessori dell'alma oscura. Della città ad anelli. In luogo al confine del mondo e della propria adorata figlia. Quindi... Lui ha donato anche la figlia. Lui ha donato anche la figlia. Ha donato una città e una figlia. Non particolarmente... L'uomo più... Prozzolo del mondo. E muore poli muore poli muore poli. Ecco che... ... ... ...